ciao amici sapete qual è il modo più facile per depurarsi dalle tossine una di quelle pratiche esotiche stravaganti non proprio è mangiare se il cibo sbagliato è il primo responsabile delle tossine all'interno del corpo il cibo giusto sarà l'alleato numero uno per fare detox e depurarci se vi piace l'idea mettete mi piace e arrivate fino alla fine c'è un regalino per voi a sostegno di questa tesi c'è lo studio di una vita del dottor mark hayman direttore del cleveland clinic center for functional medicine e autore di diversi libri anche io lo sostengo da 25 anni come naturopata e ho aiutato centinaia di persone a fare detox mangiando i cibi giusti ecco come potete farlo anche voi con l'aiuto della scienza colazione stop a brioche merendine piene di zuccheri e anche al caffè niente caffè e chi ce la fa a partire ecco il mio segreto bevete acqua calda e limone come spiego in questo video e il caffè non servirà più spuntino si può bere una spremuta o un frullato detox bene arancia pompelmo kiwi e verdure verdi pranzo verdure in quantità cotte e crude con pane pasta o cereali ma tutto integrale spuntino ancora spremute fatte in casa e frullati detox con un po di frutta secca cena zuppe e vellutate di verdure con legumi e frutta di stagione bene le mele dall'effetto chelante in grado di depurare dai metalli pesanti mi sembra facile sì lo è la cosa importante è evitare cibi confezionati ricchi di sostanze chimiche che intossicano il corpo e rallentano il metabolismo se volete vedere altri consigli detox potete guardare il video in questa playlist ed eccolo il regalino di oggi il pdf lo potete scaricare gratis dalla descrizione qui sotto dalla piccola i qui in alto commentate il video condividetelo iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche vivi consapevole e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di simona vignali e 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